I want it all, I want it all, I want it all and I want it down, I want it all, I want it all Eccoci qui, siamo al Boschetto della Playa ed è tutto pronto perché il Catania Bizzocca è tornato a lavorare manca una settimana, il primo impegno, quello legato alla Coppa Italia Coppa Italia che il Catania vuole tornare a vincere, ormai non lo fa da tantissimo tempo era l'ultima stagione, è stata il 2006, lo farà con il neo-innesto Dejan Stankovic, è stato ufficializzato il suo acquisto e con Dejan Stankovic sono arrivati gli ultimi successi della formazione del presidente Bosco proprio nel 2008 e nel 2009 con lo Scudetto e anche la Coppa Italia si riparte da questo, si riparte poi dalla base dei Catanesi, da Zagami a Bosco passando per Capitan Platania passando anche per il secondo portiere Vitale e soprattutto da lui, il numero uno Davide Bua e lo ascoltiamo perché le sensazioni dell'estremo difensore rosso-azzurro sono molto ma molto positive soprattutto con il ritorno di Dejan Stankovic quest'anno ci stiamo preparando al meglio per cercare di centrare almeno uno dei due obiettivi cioè la Coppa Italia o lo Scudetto col prof stiamo facendo un'ottima preparazione atletica e ovviamente cerchiamo di riprendere quello che l'anno scorso abbiamo perso in finale ho ricominciato alla grande, quest'anno ho giocato a calcio a 11 con lo Sport Imbattiati quindi già sono partito da una base di preparazione atletica migliore rispetto all'anno scorso mi sono unito al gruppo con tanta voglia di vincere, di raggiungere questi obiettivi e di dare la soddisfazione al presidente che dopo tanti sacrifici spera che almeno uno dei due obiettivi riusciamo a centrarli Stankovic è un giocatore eccezionale di fama internazionale, lo conosciamo tutti e quest'anno spero che ci dia una grossa mano a centrare ovviamente uno dei due obiettivi sperando di amalgamare il tutto e fare degli elementi assieme cercherò anche io di avere una precisione di lancio migliore rispetto agli anni scorsi anche perché lui ha bisogno di molta precisione, molta tecnica nella fase di allenamento è indispensabile che comunque ci sia che sia presente e che io ovviamente abbia la possibilità di allenarmi con lui per cercare di cercarlo nel migliore dei modi durante le fasi di gioco